Il tessuto economico e sociale della Sardegna è stato duramente colpito dalla pandemia che ha messo a nudo le debolezze del sistema e ha trasformato anche il modo in cui le persone vanno alla ricerca di un lavoro, si formano e sviluppano le proprie competenze. A questo periodo di emergenza sanitaria l'Unione Europea ha risposto con un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere territoriale e generazionale. Anche la Regione Sardegna con la legge quadro numero 22 sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza da Covid-19 ha dato la possibilità di presentare progetti per qualificare una più ampia platea di disoccupati da impiegare nei processi di riconversione produttiva dell'economia sarda. Lo stanziamento delle risorse era pari a 4 milioni di euro ripartito in ugual misura in linee di intervento. A green e blue economy, B sviluppo competenze digitali e digitalizzazione, C economia circolare, D hospitality management. Le proposte progettuali ammesse sono state 84 suddivise tra le linee A, B e D mentre sulla linea C non è pervenuta alcuna proposta progettuale. La seconda commissione un paio di giorni fa presieduta da Alfonso Marras ha espresso parere favorevole alla deliberazione che rimodula alcuni stanziamenti della legge 22 riferiti alla formazione professionale. Via libera all'unanimità anche alla deliberazione 22 del 22 giugno 2021 sempre in materia di formazione professionale e istruzione professionalizzante. L'assessora del lavoro Alessandra Zedda nell'illustrare i provvedimenti ha motivato la decisione dell'esecutivo regionale di destinare un milione di euro aggiuntivo dei quattro originariamente estanziati alle linee di intervento che riguardano green e blue economy, digitalizzazioni hospitality non essendo pervenuti progetti in materia di economia circolare. Un'ulteriore variazione riguarda lo spostamento di due milioni di euro su quattro complessivi della formazione continua a progetti riguardanti la formazione dei disoccupati che potranno essere assorbiti nei settori della green economy, dell'ICT e dell'ospitalità.